buongiorno hd forum italia quest'anno ha puntato i riflettori sul mondo degli ott e sta cercando di indagare attraverso un ciclo di webinar quali sono i rapporti che si instaurano tra questo mondo e quello tradizionale del broadcasting ne parliamo in questo momento con l'ingegner marco pellegrinato che saluto direttore ricerca e sviluppo di rt mediaset group gold sponsor della manifestazione buongiorno ingegner pellegrinato la prima domanda è questa qual è la strategia a lungo termine di mediaset rispetto alle innovazioni nel campo degli ott allora innanzitutto buongiorno a tutti diciamo che nell'ultimo decennio mediaset ha fatto una rotta di migrazione una trasformazione da broadcaster a editore è ovvio che nel concetto di broadcasting la piattaforma elettiva è la trasmissione attraverso lettere verso i dispositivi televisori nel passaggio ad editore ovviamente c'è il compendio di tutta un'altra serie di dispositivi che oggi sono presenti nella vita di tutti noi e consentono appunto l'accesso sia ai nostri prodotti che ai nostri programmi lineari e mi riferisco ai telefonini piuttosto che computer piuttosto che ipad e tutto quel mondo che va oltre la concezione del televisore quindi un editore a 360 gradi oggi come oggi pur mantenendo fede alla sua piattaforma elettiva perché è da lì che ancora arriva il grosso della presenza di utenza sulla sui nostri programmi e quindi la televisione ovviamente sta utilizzando altre strade per poter fornire i propri servizi i propri prodotti sia quelli lineari quindi la televisione sia quelli diciamo non lineari quindi l'accesso on demand ai propri prodotti televisivi e questa visione comporta il fatto che qualsiasi piattaforma qualsiasi strada qualsiasi dispositivo laddove possiamo ritrovare il nostro utente è importantissimo e quindi questa migrazione porta una strategia a lungo termine a coprire qualsiasi tipo di piattaforma distributiva o qualsiasi tipo di dispositivo utente possa interessare la fruizione dei nostri programmi tutti in che modo tutti nel modo proporzionale a quanto vengono usati dei nostri utenti finali ricordiamo sempre che Mediaset è un editore basato fondamentalmente sulla pubblicità e come tale la presenza di pubblicità e quindi il consumo di prodotti pubblicitari indipendentemente dal televisore ma da qualsiasi altro dispositivo e in qualsiasi altra modalità partecipativa quindi la fruizione da casa piuttosto che dal mobile è il nostro obiettivo laddove il nostro utente va sulle piattaforme preferenziali sulle piattaforme mobili e qualsiasi altro evento tecnologico che l'OTT porti con sé vedrà sempre Mediaset presente con la distribuzione e la fruizione dei propri programmi televisivi questa è un po' la strategia che sta a lungo termine dentro il nostro operato quotidiano quindi la presenza dei nostri prodotti audiovisivi televisivi dei nostri programmi su tutti i dispositivi possibili in tutte le modalità possibili e utilizzando tutte le piattaforme più utilizzate proprio dall'utente finale grazie un'ulteriore domanda quali sono le soluzioni tecnologiche che l'azienda intende sviluppare nell'ambito degli OTT allora sul campo OTT bisogna anche considerare la presenza di tantissimi operatori audiovisivi anche di carattere globale non solo locale su cui ci si deve confrontare quindi a differenza del sistema televisivo che ha caratteristiche locali almeno nazionali e che vede operatori simili a noi cioè broadcaster nel mondo OTT evidentemente la platea di spettatori non è più solo locale e globale e soprattutto la presenza di altri operatori e di prodotti alternative è veramente massiccia quindi la strategia dell'OTT prevede di essere presenti su queste piattaforme laddove si concentrano i nostri contenuti e i nostri utenti soprattutto quindi utilizzando tutte le tecnologie possibili anche le tecnologie mobili di quinta generazione vedranno sicuramente Mediaset opportunisticamente parlando presente nella distribuzione anche delle future RT5G ma soprattutto anche della distribuzione via broadband è molto importante la distribuzione via broadband perché come sapete da circa una decina d'anni è in atto una serie di decurtazione continua dello spettro radio televisivo che serve alle trasmissioni dei broadcaster e non solo in Italia ma in tutto il mondo per fare spazio alla telefonia mobile in questo caso questa erosione continua di spettro e quindi una riduzione anche della capacità trasmissiva globale dei broadcaster comporta il fatto che i broadcaster devono trovare una risorsa distributiva alternativa a quella via etere la televisione durerà ancora per molti decenni ma evidentemente la presenza di una distribuzione alternativa di quello spettro ad altri utilizzi chiamiamo refarming questa modalità cioè prendere frequenze che erano del campo televisivo e fornirla al campo della mobile communication comporta il fatto che la riduzione di questo spettro comporta la riduzione dei canali lineari e dei programmi che i broadcaster come Mediaset continuano a produrre in questo modo dobbiamo trovare una energia alternativa questa energia alternativa è oltre che il 5G mobile e anche il broadcasting su reti broadband più o meno specifiche per portare quality of service noi sappiamo che nel mondo OTT di internet la quality of service non è esattamente quella che percepiamo nel mondo del broadcasting e quindi trovare una modalità distributiva su una rete broadband che sia la rete unica che sia qualsiasi altra denominazione che verrà portata ma che comporti il fatto di poter garantire la distribuzione dei segnali lineari della televisione con la stessa qualità e con la stessa user experience del consumatore è una delle attività che Mediaset sta valutando si chiama DVBI è la terza come dire la terza gamba del Digital Broadcasting Television Project una è il digitale terrestre l'altra è il satellite che comunque permangono gli si affiancherà nei prossimi anni questa televisione alternativa che prevede che il televisore sia connesso anche come già nel 60-70% dei casi alla distribuzione via broadband e che quindi possano essere veicolati in maniera assolutamente seamless per l'utente finale canali televisivi anche attraverso le reti broadband, le reti IP ecco questa è una tecnologia che è stata standardizzata nel 2019 ma che sicuramente negli anni di questa decade da qui al 2030 si farà strada quindi televisione digitale terrestre continuerà con sempre più limitazioni il satellite continuerà e si affiancherà anche la distribuzione broadband cosiddetta DVBI evidentemente essendo noi come dicevo una realtà un editore a 360 gradi basato sulla raccolta pubblicitaria qualsiasi altra tecnologia che afferisce una modalità più partecipativa profilata e più interessante di fruizione della pubblicità come per esempio il target di Advertasmon, l'addressable TV o tutte quelle tecnologie che consentono di inviare spot profilati ad ognuno dei nostri utenti e non più spot generici o di massa sono tecnologie che in Mediaset stiamo valutando che stiamo perseguendo, che stiamo sperimentando per una televisione sempre più personale sempre più affine alle esigenze dei nostri utenti finali grazie a tutti